Amici un saluto da Guido Bagatta, benvenuti a questa prima puntata della settimana che apriamo come settimana con Pecco Bagnaia per capire come mai si è giocato non benissimo, anche se ovviamente ci sono tanti attenuanti, il primo match point per portarsi a casa il titolo della MotoGP. In effetti siamo stati, sono stato un po' cattivo. Se l'è giocato nel modo più giusto, cercando di gestire la gara ma probabilmente non si aspettavano una Yamaha così vispa una volta tanto una Yamaha che usciva ovviamente da un periodo molto buio, guidata da un Quartanaro che ricordiamo è campione del mondo in carica, che aveva giocato molto bene le sue carte nella prima parte della stagione con la casa del Diapason che sembrava ancora la moto da battere poi dopo la pausa estiva qualcosa è successo da quelle parti e quella moto è rimasta quasi box nel senso che è diventata una moto molto più difficile da guidare con un pilota improvvisamente in crisi. Comunque, fatto sta, le cifre danno ancora una speranza proprio alla Yamaha che si giocherà le ultime briciole di possibilità di vincere questo mondiale a Valencia. Tutto dice che andrà molto bene per Bagnaia, i numeri sono impietosi, almeno in classifica 23 punti di distacco, Bagnaia dovrebbe rimanere ai box o non dovrebbe chiudere la gara e Quartanaro dovrebbe vincerla questa gara per portarsi a casa il titolo. Capirete che con tante moto in pista con lo stesso brand ovvero con Ducati anche tutto questo sembra impossibile perché come è o come non è un certo gioco di squadra nonostante le diverse scuderie la Ducati lo sta mettendo appunto in pista e non solo in Malesia ma ovviamente succederà lo stesso a Valencia. A proposito di gioco di squadra, di brand, questo è un mondiale, poi ne parleremo quando sarà finito, che stava o sta diventando quasi un mondiale monomarche e meno male che c'è stata l'Aprilia che durante la stagione magari non in questi due ultimi Gran Premi ha svegliato un po' le situazioni. Perché? Perché i marchi giapponesi sono andati in crisi, i tre marchi giapponesi non sono riusciti a mantenere quello che avevano fatto negli anni ovvero il possesso in qualche modo del moto mondiale che senza il Giappone praticamente non esiste. È un po' come se vogliamo la Ferrari per la Formula 1 ma i tre marchi giapponesi quest'anno per vari motivi non c'erano. Velocemente la Suzuki a metà campionato l'ha data su, si è tolta, non ci sarà più dell'anno prossimo. La Yamaha è entrata in crisi, lo abbiamo già detto, e la Honda ha dimostrato di essere troppo ma troppo dipendente da un Mark Marquez. Senza Marquez, con tutti i problemi che ha avuto, senza un Marquez anche se in pista però un Marquez che non è più quello di una volta, la moto è un'altra cosa, è una moto che non vince più. Quindi onore alla Ducati che però diciamo ha fatto piazza pulita un po' da tutte le parti. Ricordiamo che l'Apriglia, l'anno prossimo, a differenza di quest'anno, avrà quattro moto in moto mondiale perché avrà anche una scuderia satellite. Dobbiamo quindi aspettare Valencia per celebrare un Pecco Bagnaia, l'antipersonaggio per Antonomasia rispetto a Valentino Rossi per fare un esempio, ma anche a Simoncelli, a tanti motociclisti italiani del passato, sicuramente ha grande grinta in pista ma fuori dalla pista non è certo un personaggio di quelli che si possono mettere in copertina di quotidiani oppure di settimanali non sportivi. Va bene così, bisogna vincere in pista però Pecco potrebbe anche lavorare una volta conquistato il suo primo titolo in MotoGP anche sul personaggio, senza strafare però diciamo che la stampa cerca sempre il cosiddetto media darling, ovvero qualcuno che nel mondo dello sport, al di là dei risultati ottenuti nella propria disciplina, riesca a motivare anche il giornalista per qualche cos'altro da scrivere su di lui e attorno a lui. Staremo a vedere per adesso, intanto aspettiamo, 6 novembre, Valencia, gran premio conclusivo del campionato con tantissime chance anche aritmetiche e non solo di testa di speranza per quanto riguarda noi italiani per Pecco Bagnaia di vincere questo mondiale. Alla prossima!